Dovesse capitarvi oggi di fare un viaggio nella Russia attuale, provate a spingervi un po' a est di Mosca, abbastanza ad est di Mosca. Oltre la vecchia capitale sovietica, attuale capitale della Federazione Russa, ci sono diversi siti un tempo proibiti. C'è Kubinka, la grande area del vecchio poligono militare, diventato un museo dei mezzi corazzati, un tempo inaccessibile e ora visitabile, pagando alcuni rubri. E poi, andando sempre più a est, ci si può imbattere in una città che oggi si chiama Sarov, ma che un tempo non esisteva sulle mappe. C'era, ma nessuno sapeva dove era, cos'era, cosa vi si faceva. Era una delle cosiddette città chiuse, le città proibite, le città segrete dell'Unione Sovietica. Sarov, per tanti anni, si è chiamato Arzamas Sevici, ed è con questo nome che era conosciuta all'interno dell'Unione Sovietica come sede del Comitato Scientifico per la Ricerca sulla Fisica Sperimentale, il luogo di nascita della bomba atomica sovietica. Della bomba atomica americana sappiamo praticamente tutto. La sua genesi, il progetto Manhattan, gli scienziati reclutati un po' in tutto il mondo, anche in fuga dall'Europa. Della atomica nazista si è detto molto del fatto che ci fosse un solo vero scienziato che ci credesse davvero, Werner Heisenberg, che poi venne reclutato a guerra finita dagli americani, e il fatto che Hitler non credesse minimamente nelle potenzialità di questa arma definitiva. Della atomica sovietica si è detto in parte, un po' perché il progetto è sempre rimasto abbastanza segreto, un po' perché la sua storia è contornata di ombre scure, ombre che a volte sfociano nello spionaggio. Bene, se negli Stati Uniti la creazione della bomba atomica prende il nome in codice di progetto Manhattan, nell'Unione Sovietica si parla di Operazione Borodini. È un'operazione lunga, una genesi che parte dalla fine degli anni 30 fino a sfociare al 1949, il giorno, il 29 agosto del 49, del primo test atomico sovietico, un giorno chiamato in codice RDS-1, ma anche come primo raggio, o detto in russo per vai a mogna. Ebbene, in quel lasso di tempo, circa una decina d'anni, tra l'avvio delle ricerche e il primo raggio, la prima esplosione atomica condotta nell'Unione Sovietica, passa del tempo, passano anche diversi uomini. Passano quelli che poi diventeranno alcuni eroi dell'Unione Sovietica. Pensiamo a Fioro, l'uomo che scrisse la famosa lettera a Stalin sollecitando le ricerche per l'ambito atomico, parlando per la prima volta di una superbomba, di una sorta di ordigno destinato a cambiare radicalmente il corso della storia e nel caso anche della guerra. Ma pensiamo anche a scienziati che non si trovavano in urso. È il caso, ad esempio, di Fuchs, austriaco, che partecipa al progetto Manhattan, ma intimamente ha una fede comunista, sovietica. E proprio per questo motivo Fuchs passa diversi segreti raccolti nel corso di progetto Manhattan ai russi, ai sovietici, che ne faranno buon uso. Ma pensiamo anche a John Kerkos, uno dei cinque di Cambridge, il Cambridge Five, le cinque stelle, i cinque inglesi che decisero di tradire la Gran Bretagna per sposare la causa sovietica. Ma di questo ne parleremo in un'altra puntata. Ebbene, da queste grandi opere di spionaggio, condotte sotto l'egida di quel mostro che era la Brenti Beria, uno psicopatico, un pedofilo, come si è scoperto dopo, ma anche un poliziotto davvero terribile che aveva plasmato l'encavedè dal vecchio GPU e poi, per poi traghettarlo verso il futuro KGB, ebbene, proprio tramite Beria e la sua macchina repressiva e spionistica al tempo stesso, l'Unione Sovietica era riuscita ad acquisire parecchi segreti delle altre potenze per costruire, prima o poi, quella famosa bomba più potente di ogni altra bomba mai vista su questa faccia della Terra. Ebbene, gli studi proseguono, proseguono per lunghi anni nonostante la guerra. Ricordiamo che nel giugno del 41 l'Unione Sovietica deve fronteggiare l'invasione, un po' a sorpresa nazista, un po' a sorpresa perché comunque l'Unione Sovietica era stata avvertita dalla sua talpa a Tokyo, Ricard Sorge. Nonostante quattro anni di intensa guerra, dal 41 al 45 le ricerche proseguono, proseguono in vari siti. Non esiste ancora Artemis XVI, questa verrà aperta ufficialmente nel 1947. Ma in vari siti si comincia già a studiare, a studiare la tecnologia che diventerà la tecnologia atomica e come ottenere quell'uranio che è alla base, l'uranio ovviamente 235, che è alla base del futuro ordine. Serve una tecnologia particolare, Fuchs non ha ancora perfezionato le centrifughe, quindi per ottenere l'uranio arricchito serve il ciclotrone. Il ciclotrone è un grosso magnete che viene avvolto in chilometri e chilometri di filo, di rame o di altro materiale conduttore come può essere ad esempio l'argento e che attraverso l'elettricità con cui viene alimentato questo grosso magnete si possono separare gli atomi più leggeri dagli atomi più pesanti di ogni materiale possibile. È semplice, però serve tanta elettricità, quindi vengono costruite ulteriori centrali a carbone. Serve un materiale prezioso, il rame in tempo di guerra è ricercatissimo dall'industria bellica, lo sanno anche negli Stati Uniti, dove tra l'altro devono costruire dei ciclotroni avvolti nei fili d'argento ricavati dai lingotti di Fort Knox che vengono fusi e poi restituiti successivamente in forma di filo d'argento e rifusi dopo i lingotti allo stesso Fort Knox. Stesso problema all'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica che tra l'altro è partita in ritardo e nonostante i tanti sforzi, nonostante anche appunto come si diceva lo spionaggio attivo verso l'estero, fa fatica. Fa fatica perché l'Unione Sovietica è sotto attacco, perché l'Unione Sovietica è anche presa nella morsa della Kriegsmarine che cerca di intercettare i convogli nell'Artico che portano risorse, che portano materie prime, che portano materiali dall'America verso l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica è comunque in maniera abbastanza evidente in crisi per più tempo sui fronti militari. Eppure, grazie alle rivelazioni di Krauss-Fuchs, grazie alle ricerche che vengono condotte da Kurchatov in quello che diventerà il famoso laboratorio numero due di fisica dell'Unione Sovietica, ebbene si comincia a vedere la luce, nel vero senso della parola, perché in quel laboratorio viene costruita la prima pila atomica sovietica, la pila atomica come quella che Enrico Fermi realizza a Chicago, accendendola e dando il famoso messaggio al presidente Frank Liderano Roosevelt, il navigatore italiano è giunto nel nuovo mondo. Ebbene, Kurchatov, che in quel momento è direttore tecnico, sottoposto a Beria, che è direttore organizzativo, e il suo vice, Panashuk, che stanno lavorando senza sosta, accendono la prima pila atomica sovietica, e da quel momento gli si apre il vero e proprio mondo. L'Unione Sovietica, pur impegnata in guerra, incrementa sempre di più la ricerca mineraria per trovare giaciniti di uranio per fornire combustibile a questa pila. Non solo. Kurchatov, come detto, è uno dei primi a chiedere la costruzione dei ciclotroni, lo ottiene, un ciclotrone che viene alimentato da ben quattro centrali a carbone, giusto per far capire quanta elettricità richiede, di quanta elettricità è affamato questo ciclotrone. Però è fondamentale, e tutto questo avviene negli anni della guerra. Ma quando la guerra finisce, e finisce, come ben sappiamo, con l'Armata Rossa che entra a Berlino, ebbene, in quel momento, a Berlino, l'Armata Rossa non trova solo il Führerbunker ormai deserto, Goebbels che si è ammazzato con la moglie, il mistero sulla morte di Hitler, eccetera, eccetera. Trova anche alcuni laboratori di ricerca, trova dell'uranio che i tedeschi avevano arricchito, perché i tedeschi comunque avevano continuato a lavorare, pur con tutte le difficoltà della guerra, sulla corsa alla bomba atomica. Ma è realizzato anche uno stabilimento per produrre l'acqua pesante, quell'acqua che sostituisce l'idrogeno con il deuterio, che è un materiale più, appunto, tra virgolette, in fisica, pesante. Quindi, quello che serve per decuplicare il potenziale di una normale fissione nucleare. Ebbene, prendendo quel materiale dai laboratori di ricerca tedeschi, prendendo alcune documentazioni trovate negli archivi tedeschi, i sovietici possono fare un altro passo in avanti verso la fine dell'operazione Borodini. Anche perché, nel frattempo, mentre si sta discutendo sull'assetto del mondo, nella conferenza di Potsdam, che segue Yalta e che vede soprattutto la partecipazione di Harry Truman al posto del defunto Franklin Delano Roosevelt, l'America, intanto, ha già compiuto il suo primo test atomico. È il test di Albuquerque. È il test che segnala l'inizio, vero e proprio, dell'era atomica. Quel test che è visibile da centinaia di chilometri di distanza, una palla di fuoco, un lampo accecante. Un lampo che poi si vedrà qualche settimana dopo sopra Hiroshima e poi sopra Nagasaki. Un lampo distruttivo che costringerà il Giappone alla resa e che soprattutto apre gli occhi a Stalin. Da quel momento in avanti capisce che Truman, durante le trattative di Potsdam, ha giocato un'ottima partita di Potsdam. Ha ammesso sì che c'era qualcosa in preparazione contro il Giappone, ma non aveva mai detto a Stalin di avere in serbo ormai pronta la prima bomba atomica. Da quel momento in avanti Stalin è determinato, la vuole la bomba. Da tutti i materiali e tutti i fondi necessari alla ricerca. Una ricerca che diventa assolutamente prioritaria, tanto che Beria ha mano libera nel trattare anche duramente gli scienziati, minacciando chi non collabora o chi non lavora con la giusta lena di essere spedito in un bulag. D'altronde lo sappiamo com'era il sistema sovietico. Nel 1948 ormai ci siamo, anche perché nello stato sovietico è entrato un nuovo personaggio, si chiama Igor Tam, un vero genio nell'ambito della ricerca fisica sovietica. Ed è lui, assieme agli altri ricercatori, ad attivare nella zona di Gorki, in quella che poi sarà Arzamassa 16, l'ufficio di costruzione, numero 11. Una struttura super segreta che viene cancellata dalle mappe. Le ferrovie non ci passano più. Per arrivarci occorre fare delle strade punteggiate da posti di blocco. È un segreto, un segreto che va custodito gelosamente e che a poco a poco produce i suoi frutti. E arriviamo a quel primo raggio, al 29 agosto del 1949, al giorno in cui l'operazione Borodino si conclude con un successo. Gli americani in codice ce lo chiameranno Joe First. Joe perché Stalin si chiamava Josef e quindi Giuseppe. È la prima esplosione atomica fatta dai sovietici. Viene realizzata in un poligono a Semipalatinsk, in quello che oggi è il Katakist. È una bomba al fissione, al plutonio. Circa delle dimensioni di Fatman, la bomba sganciata su una gasolina, la terza bomba atomica americana. Da quel momento in avanti sarà una corsa continua, una corsa agli armamenti tra due fronti opposti. Da un lato l'America, dall'altro l'Unione Sovietica. America che poi all'interno della NATO avrà dei supporti da parte di Gran Bretagna e Francia che anche loro realizzeranno le loro forze strategiche nucleari. Unione Sovietica che nella sua sfera di influenza non vorrà ovviamente intrusioni. Nessuno dei satelliti si attarderà a compiere una vera e propria ricerca nucleare. Ci sarà la Cina poi, conclusa la guerra civile proprio nel 49, a studiare, a elaborare la propria bomba atomica. Poi ci saranno le nazioni che non ammetteranno mai apertamente di avere la bomba come Israele o nazioni che faranno dei test atomici pur non rientrando ufficialmente nel novelo grande e potente. Pensiamo all'India e al Pakistan. Sarà un mondo diverso, un mondo, come è stato detto, un mondo nucleare, un mondo con la paura della bomba, la paura che poi il mondo vivrà nell'ottobre del 1962, famosi 13 giorni della crisi dei missili di Cuba, quando l'intero pianeta arriva a tanto così dalla distruzione nucleare. Un mondo in cui i due grandi blocchi si fronteggeranno armi in pugno sapendo che nessuno dei due può scegliere di lanciare per primo, perché vorrebbe dire esporsi a una ritorsione uguale e contraria di pari forti che distruggerebbe la vita umana sulla faccia del pianeta. Sarà un braccio di ferro lungo oltre 40 anni, fino alla caduta dell'Ursa, al disgelo, ai programmi START, alla volontà di smantellare gli arsenali nucleari e sarà anche fonte per la pubblicistica e se pensiamo anche per la cinematografia di episodi surreali, grotteschi, ma che fanno ben capire quale sia il clima di quel periodo. Vi ricordate il film con Peter Sellers che interpreta più ruoli? Ecco, esatto. L'ordigno fine di mondo, il cobalto Torio G, questa pantomatica bomba era capace di distruggere tutto e di impedire la vita sulla Terra per quasi un secolo. Non ci si è andati molto distante perché la ricerca spinta all'inverosimile verso la ricerca di un'arma sempre più forte, sempre più potente, sempre più decisiva, a un certo punto era quasi sfuggita di mano. E chissà se mai ci verrà raccontata la verità sui vari incidenti nucleari che si sono verificati dagli anni 50 fino alla fine degli anni Ottavri. in impianti che si è saputo poi servivano anche a produrre plutonio per le armi. Free Mile Island, Chernobyl, erano impianti in cui non si produceva solo energia elettrica per un solo civile, si produceva anche plutonio. Chissà se ci verrà mai detto quanta volontà c'era di raggiungere obiettivi civili e quanta di raggiungere obiettivi invece militari. Quello che sappiamo oggi è che la parola nucleare è in parte cessata. Non del tutto pensiamo agli incidenti nelle centrali, pensiamo a Fukushima una decina di anni fa quando il mondo è ripiombato improvvisamente nell'incubo della nube tossica. Però quella corsa agli armamenti, quella corsa all'atomico da parte dei sovietici è una storia molto particolare. È una storia di uomini, è una storia di spie, è una storia di strategie a volte sottovalutate, è una storia di politici che inizialmente non credevano e poi volero fortissimamente l'obiettivo. È una storia che riguarda la città, Sarov, dove ancora oggi, pur avendo recuperato il suo nome, non si chiama più Arzama 16, pur essendo stata parzialmente aperta agli stranieri, resta sempre un enclave a sé stante, un luogo in cui occorre presentare non so quanta documentazione per poter fare il turista qualsiasi. Un luogo con misteri, non è l'unico, è uno di quei luoghi ex città segrete, ex città chiusa dell'URSS, dove ancora oggi ci sono dei laboratori in cui magari non si fabbrica più la bomba, ma la si smonta. Esisteva una maglietta che girava in maniera semiclandestina tra i tecnici di Sarov, quando era ancora Arzama 16. La maglietta aveva una scritta «Sono un tecnico nucleare, se mi vedete correre, correte più forte». E questo fa capire quanto a volte anche la ricerca scientifica vada ben oltre quei limiti di etica che il premio Nobel Montalcini ci spingeva sempre a non sottovalutare ed anzi a rispettare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.